Volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Tribù rossalera amici amici del Marietto, buon lunedì 23 di novembre a tutti e a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con il vostro Marietto milanista. Salutate la capolista! Salutate la capolista! Ebbene sì, per quarta partita di fila, Milan in testa al campionato di Serie A. E che non me ne vogliano tutti i gufi, gufacci, maledetti che ogni volta ce ne mandano. E anche ieri ce l'hanno mandata con il nostro Dio, Imperatore, Totem, Zlatan, Immenso, Supremacy. Non ho più aggettivi da dare a questo Dio del calcio ormai, cioè perché veramente non possiamo dire di più e siamo tutti, realmente tutti in ansia in questo momento per il problema al flessore della coscia destra. E sembra proprio notizie d'ultima ora confermata la sua lesione e c'è un rischio di stop di ben un mese. Nel bel mezzo del cammin di nostra vita, ossia nel bel mezzo di questo inizio spumeggiante di questo Milan, è veramente una mazzata dietro al collo. Un Milan che ha dimostrato ieri una prova di forza, di proprio grandezza anche a livello proprio mentale. Una squadra che è andata a vincere in un campo difficilissimo, di una pretendente a un posto in Champions League. Ricordiamoci che abbiamo battuto già Inter e Napoli a questi livelli. Quindi un Milan ormai che è tornato ad essere il Milan e sicuramente questo dà fastidio e lo sappiamo, ma di questo noi ne godiamo solamente. È bello che adesso gli altri stiano lì a rosicare. Chiaramente ricordiamoci che il nostro obiettivo è la Champions League, però in otto giornate hai fatto 20 dei 24 punti, è lecito sognare ragazzi. Quindi per quanto io già da settimane lo sto dicendo, ma perché dobbiamo aver paura di dire la parola scudetto? Siamo il Milan ragazzi, ricordiamocelo sempre. Quindi il Milan deve stare a questi livelli, deve stare nel top di gamma. Cribbio! E che cavolo, e diciamo le cose come stanno. Step by step, ma la squadra c'è. Possiamo analizzare punto per punto anche i giocatori di ieri, a parte Zlatan, immenso, infinito, che per ieri io non gli avrei dato neanche il voto, perché andrebbe oltre il 10, ho visto la Gazzetta gli ha dato 8. Ma come si fa a dare un voto a un Dio? Cioè voi a Dio potete dare un voto? Non si può dare, perché Dio è immenso e infinito. Quindi che voto gli vogliamo dare? Quindi esce l'unico grande preoccupazione nostra, è questo maledetto infortunio che non ci voleva, perché 10 gol in otto giornate, ops, lui ne ha giocate 6, scusate, quasi una media di due gol a partita, ditemi voi, chi li fa a 39 anni il vecchietto? Ebbene sì, si è fermato il vecchietto. Mi raccomando poi, tra l'altro, ecco, vi volevo ringraziare, è adesso venuto in mente, per la bellissima live che abbiamo fatto ieri con lo youtuber napoletano Francesco, Napuliello87, che anche vi invito chiaramente a seguire, perché è un ragazzo davvero in gamba, l'avete visto tanti di voi che hanno assistito ieri alla live, quindi ringrazio a tutti i presenti, e già che ci siete, like di sostegno, iscrizione al canale con campanile attiva, e condivisione ai vostri social alla fine. Però dobbiamo anche dare merito a questo esordio sulla panchina di Daniele Bonera, perché adesso, ok, il Milan ha messo del suo, sicuramente la preparazione è arrivata anche via drone, o via Skype, quello che è con Pioli, però lì Daniele Bonera ha dato una tranquillità, non so se l'avete visto, sempre composto, gli ordini li davano a maniera molto precisa, e secondo me anche lui ha il suo merito ieri, quindi complimenti al grande esordio, senza parlare poi anche di Gigi Donnarumma, Gigi Donnarumma è stato uno dei migliori in campo, chiaramente ha fatto una super parata su Mertens, cioè una parata che gli rimbalza davanti, e riesce poi a schiaffeggiarla in angolo, dice di no all'Ozzano, a Petagna, è sempre lì presente, Gigi è il nostro top player, c'è poco da fare, quindi diciamo quello che è, i livelli e quali sta, anche a livello economico, che è il più pagato, nella Rosel Milan con Ibra, ci può stare, però non sono da meno ragazzi, nel reparto difensivo, Simon Chiaer è la roccia, Teo Hernandez ieri è tornato ai livelli, che noi conosciamo, ha sfoggiato quell'assist in mezzo, il primo gol di Ibra, proprio al bacio, e vogliamo parlare di Franchesi, vogliamo parlare di Ben Nasserla, in mezzo al campo, ma lo stesso Ante Rebic, che ha cominciato un po' timidamente, ma poi anche lui ha messo poi dopo la palla, ancora per il secondo gol di Ibra, e l'impatto che ha avuto nel primo gol, in campionato del vichingo, del norvegese, Jans Peter Auge, davvero impressionante, e vorrei che il Milan puntasse molto di più su questo ragazzo, perché c'ha i numeri, e l'abbiamo visto, però tutto il resto della squadra, anche lo stesso Cialanoglu, è stato in partita, tra l'altro il primo tempo, ho visto un recupero in difesa, in un momento veramente complicato, che il Napoli si era ripreso, dove lui ha fatto anche un lavoro sporco di ritorno, quindi nonostante le voci, che adesso poi parleremo anche di questo discorso di Cialanoglu, ha fatto il suo dovere, ma senza poi parlare anche degli altri, ma lo stesso Calabria ha fatto la sua partita, cioè anche una sufficienza l'ha raggiunta, o Sele Meker, Cassi Ieco è entrato anche lui, comunque con il piglio giusto, l'unico punto, che già l'avevo detto ieri, anche in live, che mi lascia un po' così, è il capitano Alessio Romagnoli. Adesso, io non so se questo è dovuto sempre ai continui infortuni, o comunque, anche a un... non lo so, a livello reattivo, lo vedo poco reattivo, scusate, e poi invece le entrate di Krunic e Colombo, secondo me, sono assolutamente senza voto, non gli possiamo dire nulla. Però, in questo momento, a parte, diciamo, proprio questo infortunio del Milan, di Zatimbraimo, adesso, chiaramente, bisogna cominciare a capire cosa facciamo con questa cosa qua, perché Rebic, sicuramente, adesso è tornato e diventerà lui la punta, non possiamo dare le chiavi dell'attacco, così adesso, a Lorenzo Colombo, parliamoci chiaro. Sicuramente, ci sarà più possibilità, probabilmente, per tornare anche di auge, a questo punto, così come Castiglieco, come sulle facce, bisogna anche alternarsi, visto che anche Leao è fuori. E dobbiamo fare di necessità virtù, e nonostante tutto questo, la squadra, ragazzi, sta dando proprio segnali incoraggianti, questa vittoria a Napoli, ragazzi, è qualcosa che ci fa proprio spiccare, verso quell'Olimpo, di cui noi meritiamo di stare, su quelle vette, dove noi meritiamo di stare. E detto questo, però, attenzione, perché ci sono sempre più notizie, sempre più rumor, che Cialanoglu, addirittura si parla di una clamorosa, però questa cosa qua, me la posso credere, non me la posso credere, notizia di un clamoroso scambio, che già ne parlavamo qualche settimana fa, tra Eriksen e Cialanoglu, cambiando sponda del naviglio. io non so, ditemi voi, se è una cosa che, io Cialanoglu, vi dico, ieri, secondo me, non ha giocato male, ha fatto la sua partita, però le richieste che lui sta facendo, sono spropositate, tra l'altro, il Milan potrebbe beneficiarsi, anche, del decreto crescita, tanto che si parla di questo, anche qua dalla Spagna, continuano a dirlo, io vivo qua, Isco al Milan, un affare da 93 milioni di euro, e il Milan, se lo potrebbe prendere, proprio con questo discorso, decreto crescita, per quanto lui prenda 12 milioni di stipendio all'anno, il Milan, con questo decreto, potrebbe dare 7-8 milioni l'anno, e però, staresti parlando, chiaramente, di un top player, che viene dal Real Madrid, e a questo punto, potrebbe essere un colpo pazzesco, chiaramente, per il Milan, in caso non andasse in porto, questo scambio con Cialanoglu, tra Eriksen e Cialanoglu, allo stesso tempo, ancora dall'Inghilterra, arrivano notizie, che il terzino portoghese, Dalot, comunque, continuerà la sua, missione da giocatore, la sua carriera, al Manchester United, il quale, non vuole sentire, va su un eventuale rinnovo, prestiti, riscatti, compagnia bella, ma questo è un problema, scusate ragazzi, però, è scesa un po' la temperatura, non c'ho nessun moscone virus, tranquilli, io sto bene, sono in pace, lui non c'è niente di tutto quello, una semplice, può essere influenza, come tutti gli anni, primaveri, autunnale, quindi, torna di moda, il nome di Emerson Royal, del Betis, che ne ha parlato, tutto quest'estate, che mi segue, lo sa benissimo, e, che è del cartellino, del Barcellona, però, al Betis, un'operazione, che potrebbe, chiudersi, anche con 20 milioni, è il mio preferito, lo dico da mesi, Emerson Royal, è una scheggia, è un Teo Hernandez, a destra, quindi, se mai, Dalotto, non dovrebbe andare in porto, affidiamoci a qualcuno, che già, c'è esperienza anche europea, un campionato duro, anche come quello, spagnolo, della Liga, giovanissimo, il ragazzo, cioè, ha 20 anni, che vogliamo, cioè, non lo so, che vogliamo fare, quindi, io vi dico, ragazzi, fatemi sapere, qua sotto in basso, i vostri commenti, per me, sono sempre preziosi, e importanti, attendiamo ulteriori notizie, io vi dico una cosa su Ibra, Ibra ha dimostrato in più volte, che a qualunque infortunio, lui torna, è anche più forte, di prima, e sono sicuro, che sarà così, però, ricordiamoci bene, che questo che sta succedendo, con i blocchi anche, dei positivi, negativi, a sti cazzo di tamponi, del covid, destra, sinistra, sta bloccando molte squadre, quindi, bisogna avere la coperta lunga, anche perché adesso arriva anche l'inverno, e soprattutto comincerà a far freddo, avremo da qui a finale di dicembre, non so quanti impegni, però, praticamente ogni 3-4 giorni, giocheremo anche con l'Europa League, io penso che il Milan deve pensare seriamente, ma veramente, a gennaio, ad avere un attaccante, un attaccante che sostituisca Ibra, al di là di tutto quello che sappiamo, difensore centrale, eventualmente la destra, però un attaccante importante, Ibra, l'ho detto inizio campionato, è un fenomeno, è un dio, lo sta dimostrando, perché i numeri parlano, la sua condizione, parla, parla da solo, cioè quello che fa, che cosa vogliamo discutere, però ha sempre 39 anni, quindi anche questi acciacchi, acciacchini, acciacchetti, che possono succedere, anche ogni tanto, un mese fuori, stop così, possono essere, non dico ricorrenti, ma se lui gioca sempre, sì, quindi è importantissimo, a mio avviso, che ci sia un ricambio all'altezza, e vi dirò di più, uno che ha il mio stesso nome, è ancora svincolato, e si chiama Mario Mandzukic, la lascio lì, commenti in basso, iscrizione al canale, campanelle attiva, mi raccomando, like di sostegno, condivisione ai vostri social, per me è una grande benedizione, e dal vostro marietto milanista, con la squadra, più forte d'Italia in questo momento, perché voglio vedere chi mi, chi è che mi può contraddire in questo, visto che sono 20 partite in campionato, che il Milan è invincibile, invincibile, perché abbiamo battuto tutti, abbiamo battuto nel posto lockdown, Juventus, Roma, Lazio, ora Inter, Napoli, tutte le abbiamo battute, quindi, cosa volete fare, se non seguirmi, in questa tribù rossonera, dal vostro marietto milanista, sempre con il mio cuore rossonero, vi auguro un felice lunedì, ma sempre, Forza Milan, ovunque e comunque, e ci vediamo domani alla prossima, ciao! Ciao!